E agli amici di Brugge di Rimini 2015 non poteva mancare Infomedica, l'azienda leader per i software in odontoiatria. Quali prodotti ci presenti in questa fiera? Per quest'anno abbiamo deciso di creare un'area particolare per il management odontoiatrico, la firma digitale, ci siamo specializzati nella radiologia facendoci fare una certificazione particolare ma proprio perché da 25 anni siamo nel settore abbiamo deciso di entrare in nuovi mercati e quindi sia per il mercato europeo a livello internazionale e poi anche Albania, Croazia eccetera. E proprio a questo motivo stiamo cercando dei rivenditori, dei distributori del nostro prodotto in loco. Tante novità quindi per l'estero ma anche per l'Italia, cosa si propone per il mercato nazionale? Per esempio proprio come dicevo prima per il management sappiamo che c'è un'attenzione particolare all'ottimizzazione della gestione dello studio e quindi abbiamo sviluppato il software in modo che si possano ottenere le informazioni necessarie per fare un'ottima analisi di gestione. Tra i vostri prodotti, nel software in particolare, vi occupate anche di fotografia dentale. Ci racconti cos'è? Praticamente per quanto riguarda la fotografia odontoiatrica ci sono corpi macchine, obiettivi, flash, satellitari e altro che poi viene supportato da un istruttore specificamente formato al fine di incontrare le esigenze dell'odontoiatra. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS